siamo noi punto f attraverso francesca r a cura di vb domanda dopo la ripresa il prossimo appuntamento sarà fissato da voi o dallo strumento guida siamo noi che inviamo l'impulso di necessità lo strumento lo strumento non è in grado di condizionare l'evento siamo noi che decidiamo quando è il momento perché perché facciamo in modo che lo strumento possa avere un piccolo scatto evolutivo infatti la prima riunione dopo la ripresa è completamente diversa da questa seconda riunione domanda sì guida questo ci permette di approcciarci a voi in maniera più importante diciamo è un tempo tecnico che ci serve domanda che è dettato dalle migliorate condizioni dello strumento guida sì ma lo strumento non ne è a conoscenza a lei basta poco non sta facendo dei cambiamenti epocali ma quando interviene un cambiamento poi bisogna consolidarlo quando noi permeiamo lo strumento ma qualunque strumento lo strumento si deve adattare e anche noi ci dobbiamo adattare è un doppio adattamento noi però creiamo delle condizioni di instabilità in questo adattamento perché perché non vogliamo che la situazione si cristallizzi ma vogliamo portarla in evoluzione questo è il percorso 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 è il percorso